Giulio, pattinare con Giulia è stata una scoperta continua perché da che ci siamo conosciuti a oggi è migliorato tantissimo e soprattutto si è creato un buon feeling tra di noi. Il punto di forza di Giulio è la costanza, si allena veramente tanto, con costanza ed è sempre molto concentrato su quello che vuole fare. Si fida molto di me, cosa che non pensavo perché essendo regista comunque è abituato ad essere lui, a gestire le situazioni, invece di qui su Ghiaccio si fida di me. Stiamo lavorando tanto sull'eleganza perché Giulio è un uomo elegante e niente, vi aspettiamo il 21. Ciao!